Angelo Vico, presidente del canale Monterano, è uno dei paesi più belli vicino a Manziana, o mi sbaglio, presidente? Presidente? Non si sbaglia assolutamente. Mi sente, presidente? Presidente? Buonasera a tutti. Buonasera, presidente. Allora, un saluto, diciamo, perché se ricordo la zona Manziana è da quelle parti, no? Esattamente, siamo molto vicini, quindi sia nel canale possiamo dire che siamo un unico paese. Bravo, bravo, quindi sono stato molte volte a Manziana, a Canale no, magari ci sarà un'occasione quanto prima. Presidente, noi ecco da Rete Oro da 37 anni raccontiamo storie di calcio dal settore giovanile fino alla Serie D, qualche volta apriamo anche alla Serie C. Questa sera io, ecco, ne presentare anche prima la sua società. Da due anni, Giudi Lidia, lei si occupa, è presidente del canale Monterano, no? Questo è il mio terzo anno di attività di presidente. Esatto. Quindi però è presidente quasi, voglio dire, vincente perché in poco tempo avete raggiunto i massimi livelli quasi regionali, partendo dalla seconda categoria, adesso siete in promozione, già l'anno scorso arrivati mi sembra terzi in classifica, non avete fatto la domanda di ripescaggio, altrimenti stavate in eccellenza quest'anno. Beh, mi piace fare già una precisazione in merito. Se togliamo la scritta per cortesia alla regia, togliamo la scritta perché altrimenti l'inquadratura viene, ecco, se vogliamo togliere la scritta per cortesia, ecco, no, ecco, perché lei presidente si sta un po' più in alto, ecco, adesso si vede benissimo. Benissimo. Le dicevo, è necessario fare una precisazione? Sì. Mi ascolta? Sì, sì. La precisazione vale in questo senso, il prossimo scorso anno il campionato è stato interrotto a otto giornate dal termine, a otto giornate dal termine noi eravamo terzi in classifica, avendo avuto una striscia positiva di risultati fino a quel momento, eravamo con nove vittorie consecutive e godevamo di un calendario positivo, nel senso che avevamo in casa scolti diretti con il Cerveteri primo in classifica che distanziava di soltanto tre punti e il Fiumicino di un punto. Quindi possiamo quantomeno considerarci anche noi squadra vincente, soprattutto quantomeno così, primi in classifica per quanto riguarda un campionato virtuale, mi passi il termine. Questo è sicuramente la storia che lo dice. Andrea? Questa è la storia. Sì, Presidente, buonasera, innanzitutto complimenti perché vi seguiamo da lontano ovviamente ma con grande simpatia perché so che siete una realtà bella, genuina e pulita del nostro calcio. Però quest'anno avete ricominciato sulla scorta di quanto fatto lo scorso anno con mister Tonino Graniero in panchina, con Alessandro Roni, due partite avete giocato nel girone A che è stato letteralmente martoriato dal virus a inizio stagione e due vittorie. I propositi erano quelli importanti di salire, di acquisire sul campo il diritto a giocare il prossimo anno magari nel massimo campionato regionale se non sbaglio. E' proprio questo, noi volevamo la vittoria e quindi la promozione nel massimo campionato in eccellenza guadagnandolo direttamente sul campo. Quindi avevamo allestito un organico di assoluto livello. Anche qui è necessario fare una precisazione. Le vittorie di questa stagione sono tre, se consideriamo anche la vittoria che abbiamo registrato nella prima partita di turno per quanto riguarda la Coppa Italia. Le prime due giornate che ci ha visto di fronte a CSL di Civitavecchia e Santa Marinella abbiamo ottenuto due buonissimi risultati, con due vittorie. Quindi obiettivo oramai chiaro, dichiarato anche da me stesso, era quello di puntare al vertice di questo campionato e quindi così vedere se era possibile abbracciare con la vittoria sul campo quella che era l'eccellenza. Risultato storico per un paese di 1.500 anime e per una compagine come giallo o blu di Canale che insomma nella storia non hanno mai raggiunto questo risultato. Questa è anche la sportività che a volte naturalmente non è da tutti e quindi gli fa veramente onore. Matteo Lanzi che ha seguito per noi l'anno scorso quando si giocava, quando c'erano i risultati, il campionato di promozione. Una domanda? Sì, volevo chiedere al Presidente, si parla spesso di difficoltà legate al Covid e legate anche ovviamente allo sport inerente al Covid qui nel territorio di Roma. La sua è una realtà che purtroppo conosciamo un po' meno. Lì al Canale com'è vissuto questo terribile male, questa terribile pandemia e voi come Canale Monterano come vi state attrezzando per affrontare questa sessione così difficoltosa? Beh, non possiamo nascondere che gli effetti della pandemia da Covid è stato uno shock per l'intero mondo del calcio dilettantistico. Come ci stiamo attrezzando? Noi purtroppo siamo stati la prima squadra che purtroppo ha accusato alcuni soggetti positivi e quindi abbiamo vissuti per prima questa esperienza. Mi piace in questa sede ringraziare nuovamente la dottoressa Urzino e la dottoressa Sposato, le dottoresse di riferimento di malattie infettive dell'Asler MN4, civita vecchia, che ci hanno guidato, assistito e naturalmente hanno offerto tutta la loro collaborazione professionale per risolvere questo difficile momento. Altrettanto mi corre l'obbligo di notare un certo, diciamo così, distacco da parte delle istituzioni del calcio dilettantistico in quanto nessuno si è preoccupato, visto anche quello che era stato ormai reso noto della nostra difficoltà. Quindi nessuno si è preoccupato di sapere cosa stavamo attraversando o cosa avessimo bisogno. Quindi naturalmente un'esperienza che lei ha fatto e l'ha fatto già in precedenza anche sul sito della Tuscia che giustamente dà grande risalto all'attività delle società nella zona alta del Lazio. Lamenta un po' l'assenza da parte di chi dovrebbe essere la guida, se vogliamo, non solo sportivo, ma anche a livello sociale, no Presidente? Certamente, non dimentichiamo che gli effetti drammatici di questa pandemia coinvolgono un intero collettivo, un intero collettivo che ha messo in discussione affetti personali, ha messo in discussione dei rapporti di lavoro, ha messo in discussione anche la propria esistenza. Io ho un qualità di dirigente insieme a tutto lo staff dirigenziale, nonché a tutti i componenti della prima squadra e quindi in 33 soggetti siamo stati costretti, limitati, confinati nella quarantena. In quel momento naturalmente era auspicabile avere da parte delle autorità del governo del caccio dilettantistico almeno una guida. Mi risulta che sia stato attivato un servizio di ausilio, ma qui dovremmo aprire una parentesi, si leggeva interpretazione delle linee guida, ricordiamo che le linee guida erano appena sei pagine stilate dal Comitato Regionale Lazio, ripeto, era stato a sedere questo contatto telefonico con il medico fiduciario del Comitato Regionale Lazio, che io non ho avuto il piacere di sentire, ma qualche mio collega Presidente mi ha riferito che questo dottore abbia una specializzazione in opulistica. Ora, io sono un commercialista, vorrei naturalmente avere massimo rispetto dei ruoli, però in questo caso, sottoposti per primi a questo effetto disastroso della pandemia, avrei voluto essere supportato e confortato anche da un medico specialista, quali le persone che ho trovato, ripeto, la dottoressa Uzzino, grandissima professionista, grandissima specialista. Tutto qua. Ecco, Presidente, quindi insomma, dalle sue parole, ma già mi erano arrivati, diciamo, dei commenti anche da altri colleghi giornalisti proprio che la conoscono sicuramente meglio di me, che effettivamente, ma non solo lei, mi sembra che siete tanti ormai ad accusare questa, più che accusare, diciamo, è giusto a lamentarvi di un'assenza da parte delle istituzioni in certi momenti fondamentali. Quindi, lei che cosa auspica per il futuro, per la ripresa dei campionati e comunque lei sa che adesso ci sarà la possibilità anche per voi di scegliere. Ci sono nel futuro due candidati, forse ci saranno tre o quattro. Quindi, eventualmente, il calcio può cambiare, può scegliere. Presidenti come lei, naturalmente, possono avere la possibilità di dare un'investitura diversa. Ma, guardi, anche qui è necessario fare delle precisazioni. Da parte mia, nessuna accusa, sono soltanto delle critiche su quello che è stato l'operato. Di recente, il Comitato regionale Lazio ha parlato per lo più tramite dei comunicati, comunicati in cui venivano riassunte tutte le varie azioni che si erano succedute da quel marzo 2020. Ora, sinceramente, noi oggi siamo di fronte a un passaggio epocale. Non dimentichiamo che la scorsa settimana è stata varata ormai la riforma dello sport. Cinque decreti su sei. 30 novembre domani, no Presidente? Esattamente, esattamente. Il secondo decreto disciplina proprio l'assetto delle associazioni sportive direttantistiche. Il quarto decreto riguarda l'ammodernamento delle infrastrutture e quindi degli impianti sportivi. Non ci sarà più il vincolo di preparazione e quindi si apre tutto un capitolo per quanto riguarda il settore giovanile. Non sarà più tenuto il registro CONI, ma si andrà a un nuovo requisito dettato dal Dipartimento Sport e Salute. Quindi si apre un nuovo processo, si apre un'epoca innovativa dove a mio modesto giudizio è necessario avere una nuova classe dirigente, dove ci siano nuove risorse mentali, economiche, di studio, di progettualità, di programmazione. Qui quello che è mancata è la programmazione, la pianificazione. Ci stiamo rincorrendo da una settimana all'altra, da un comunicato all'altro, si parte, ci si ferma, avete 10 giorni, abbiamo il piano A, il piano B, il piano C, ma dove sono questi piani? Nessuno ci ha chiamato, nessuno ci ha contattato. Qui non si parla di concertazione, queste sono delle gravi mancanze da parte di un organo che deve naturalmente disciplinare e governare l'intero mondo del calcio direttantistico. E poi in ultimi, se mi permetta una critica da parte di un modesto e umile commercialista, qui parliamo di un comitato regionale Lazio e per tale si intende un organo che ha personalità giudizia. Non si conosce un bilancio, si mettono sempre avanti questa pochezza o mancanza di risorse per poter naturalmente investire sul nostro calcio, ma nessuno sa quanto si spende, nessuno sa quanto si incassa. Alla ci vuole molta più trasparenza. Ora, alla vigilia di quello che sarà l'appuntamento per il rinnovo delle cariche per quanto riguarda la dirigenza del Comitato regionale Lazio, benvenga che ci siano due, tre o quattro candidature. Siamo stanchi oramai di vedere una candidatura alla Bulgara, parliamoci chiaro. Non sono soltanto io a dirlo, oramai sono tantissimi i presidenti, ci sentiamo quasi tutti i giorni. Se c'è una cosa che è riuscito a ottenere il presidente Zarelli è quello di mettere d'accordo presidenti, allenatori e giocatori, siamo oramai stanchi di essere messi da una parte. Vogliamo anche noi quantomeno partecipare a questi processi di innovazione. Ripeto, è necessario avere la concertazione, è un momento difficilissimo, benissimo. Io già l'ho detto al presidente Zarelli, nell'incontro e nello scambio di note ufficiali e riservate che c'è stato tra me e lui. Benissimo, parliamo noi siamo a disposizione, ma non c'è stato un momento emotivo di persuasione e questo me ne dispiace. Ma mi sembra, Andrea, c'è poco da aggiungere perché penso che è stato chiarissimo. Ma tra l'altro io penso che il presidente abbia perfettamente ragione, è in un'ottica di pluralismo, benvenga la ricandidatura del presidente Zarelli ma benvengano anche quella del presidente Lardone e io aggiungo anche quella di tutti coloro che hanno voglia e desiderio di dare un contributo efficace alla crescita, alla ripartenza del nostro calcio perché noi ci troviamo di fronte, direttore, io batto su questo tasto in un momento dove effettivamente ci viene offerta, in un momento tragico per il mondo, ci viene offerta e garantita la possibilità di creare nuovi presupposti, se non ora quando? Io mi chiedo e vi chiedo. Esatto, presidente, c'è anche Massimo Corrientesi che naturalmente da esperto dirigente di lunga data. Presidente, ma mi tolgo una curiosità, lei da tre anni, quindi diciamo almeno vive Calcio come responsabile numero uno della società, ma prima già ha fatto parte, faceva parte come dirigente oppure si è avvicinato subito da presidente e quindi ha dato un input anche organizzativo sicuramente importante per la società. Io sono tre anni naturalmente che ho assunto la presidenza del canale Monterano Calcio, ho avuto altre esperienze, ho avuto esperienza anche come fiduciario nel comitato provinciale CONI e quindi ho quantomeno una piccola esperienza da mettere a disposizione per migliorare e per aiutare questo mondo. Bravo, bravo presidente. Massimo, ecco, finalmente dico ci sono presidenti che, ma non dico il coraggio, coraggio di che? Che bisogna dire che sono cambiati i tempi, bisogna adeguarsi. Chi si adegua è giusto che governi, chi non si adegua, ahimè, l'importante presidente è che i suoi colleghi e in passato poi si lamentano, è l'occasione, ci sono altri quattro anni poi da aspettare, quindi la scelta sta a voi presidenti, è inutile che poi le solite lamentele, a parte gli arbitraggi, che insomma lì non c'entra nulla il presidente, altrimenti non vi devo, non dico lei perché ho capito, c'ha idee chiare, ma i suoi colleghi la devono far finita di lamentarsi, insomma, hanno il diritto. Dicevo, le posso assicurare che questo è un movimento che sta assumendo delle dimensioni sempre più ampie, giorno dopo giorno, ci siamo naturalmente interfacciati, tutti siamo naturalmente finalizzati in questa direzione, oggi più che mai è necessario avere una programmazione, oggi come mai è utile avere in concertazione, è utile ad ascoltare, non è più possibile pensare un uomo solo al comando e se c'è qualcuno che pensa di assicurarsi qualche posto al sole, penso che questa sia l'ultima avventura. Beh, idee è morta chiare, anche sicurezza, io dico questo perché le amicizie, i contatti, la vicinanza su Roma, la provincia eccetera, la conosco, però so pure l'esperienza che mi dice in provincia, in provincia Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone eccetera, c'è una realtà che è lontana poi da avere, io mi auguro che arrivi la voce in tutta la regione e le idee chiare come le sue e noi siamo ben felici di poter dare la possibilità, da fare da megafono naturalmente a tanti altri suoi colleghi che non vi conoscete di avere questa possibilità. Prima di salutarla Massimo? No, io, figure come la mia, in questo momento è molto difficile lavorare perché la mancanza di comunicazione è la cosa che ci mette in difficoltà perché noi, cioè, chi fa il ruolo come il mio gestisce un'azienda, approfitto del dottore, un'azienda a perdere perché le squadre di calcio, le società calcistiche sono aziende che non producono utili ma che tirano fuori solamente gli imprenditori che finanziano e noi, la mia figura è quella che sta in mezzo tra società, giocatori e allenatore. Non sapere che cosa bisogna fare in questo momento è difficilissimo perché noi non ci alleniamo da ormai cinque settimane, ovviamente ho i giocatori che vorrebbero tornare ad allenarsi per tanti prende motivi e la società che per altri tanti motivi, tra cui il primo, assicuro che è così, è quello sanitario perché altri sono molto attenti a questa cosa qui, che tengono duro anche perché qui manca una cosa che nessuno riesce a dire, cioè il giorno X che si potrà ripartire, qui non lo sa nessuno, non lo può sapere nessuno. Qualche comitato si è espresso in passato dando linee di guida gennaio o febbraio? Io non la vorrei fare troppo facile, ma a me sembrerebbe così semplice dire il giorno X che non lo sappiamo, ci avrete tutti quanti a disposizione due settimane, tre settimane, quattro settimane di allenamenti per poter poi riprendere, ma nel frattempo tutti quanti fermi, tutti fermi perché se io rimetto in modo... Quello che volete sentirvi, i presidenti vogliono sentirsi dire questo. Perché se io rimetto in modo Tivoli, rimetto in modo 30-35 persone che riniziano ad andare al campo e i contagi ritorno di nuovo a rischio, allora io oggi ci salviamo, abbiamo messo tutto quanto a posto, noi siamo stati fermi cinque settimane... Però io volevo sapere prima di salutare il presidente, ecco, esprimerti su quanto il contenuto diciamo dell'appello che fa il presidente. Beh, è normale, si sa che ovviamente i cambiamenti poi portano sempre delle novità e portano sempre... Fino ad oggi sicuramente il Comitato ha lavorato e ha lavorato molto bene. Queste nuove disposizioni, questi nuovi decreti cambieranno tanto e sicuramente, probabilmente sarà bisogno di qualche cosa di nuovo, su questo non c'è dubbio. Allora, noi continuiamo, fra poco avremo anche da Terracina, direttamente Pierpaolo Lauretti, pre-allenatore del Numentum. Presidente, è stata la prima volta che ci sentiamo... C'è un messaggio per il presidente. C'è un messaggio? Allora... Sì, era un messaggio per il presidente dal collega Alessio Fratini. Un saluto ad Angelo Vigo, uno dei pochi presidenti a non aver paura di far sentire la propria voce e il proprio malcontento nei confronti delle istituzioni sportive. Beh, anche questo, penso che Fratini è un collega che noi apprezziamo, anche lui un lavoro molto importante e non solo perché i siti sono a livello nazionale e penso che lì nella Tuscia, nel Viterbese è una voce importante per darvi qualche indicazione. Dico vero? È un collega stimatissimo, uno dei più bravi in assoluto, equilibrato ed onesta, mi permetto di dire, Alessio Fratini. Presidente, a lei la chiusura prima di salutarla e speriamo di rivederci quanto prima. Allora, io vi ringrazio per tutto il tempo che mi avete dedicato, per tutta la disponibilità che avete offerto al canale Monterano Calcio. Assolutamente. Mi auguro che non sia l'unica ultima volta che ci vediamo. Dobbiamo aspettare i festeggiamenti, Presidente, perché io a Manziana ci vado sempre volentieri. Benissimo, allora sarà gradito ospite, questo io lo posso assicurare. Un saluto anche al direttore Calcio Natucia, che tutte le volte ci ha ospitato. E vi sta vicino. Speriamo che questo movimento che, ripeto, sta crescendo ogni giorno, possa finalmente offrire quelle che sono le nuove regole per il calcio e le tessi volanziane. Io sono sempre abituato a metterci la faccia, quindi sono a disposizione di tutti coloro che vogliono da oggi in poi lavorare per il bene del calcio direttantistico, tenendo ben preciso l'obiettivo ad oggi che non dobbiamo mai dimenticare, che innanzitutto la tutela, la garanzia, la salute. Non a caso abbiamo l'esperienza che ci ha raccontato in diretta Massimo Corinaldesi, che è uscito proprio anche attraverso un ricovero ospedaliere, quindi comunque a casa adesso ha tutto superato. A qui vanno tutti i nostri migliori auguri. Grazie, grazie Angelo Vico, presidente del canale Monterano, campionato di promozione per il momento, ma insomma nelle sue mani si può pensare un futuro più rosa anche in categorie più importanti.